Il vero potere, e questa parola ricorrerà moltissimo in questa registrazione, il vero potere è rimasto nascosto, ha avuto l'abilità di rimanere sempre nascosto, ha evitato di esporsi al grande pubblico, ha dato in mano al grande pubblico un'immagine del potere che è falsa, cioè delle marionette del potere. La politica, gli amministratori, i parlamenti, le regioni, anche alcuni altri organi potentati economici, ma in realtà tutti quelli che noi consideriamo gli uomini e le donne del potere non lo sono, documenterò quello che sto dicendo. A questi è stato lasciato una specie di cortiletto del potere, un potere di serie C, un cortiletto dove possono fare i loro giochi.